Sono bastate 34 giornate di campionato dopo aver frantumato record su record La Ternana esce dal carro armato, Terni apri gli occhi 1056 giorni dopo Bentornata in Serie B Oggi possiamo uscire anche dal carro armato Oggi possiamo fare tutto La cosa più bella è essere riusciti a costruire una mentalità d'acciaio Che ci porta a giocare le partite sempre per vincerele contro chiunque in casa e fuori Sono uno degli uomini migliori che ha testuto la faccia con la terra Ci sono tutte le possibilità e la volontà di poter fare delle cose importanti anche in futuro Questo deve essere un punto di partenza Eccola, l'alzata al cielo del Libero Liberati La Ternana esulta, è tutta rosso-verde Terni Complimenti La Ternana esulta, è tutta rosso-verde 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 Ternana esulta, è tutta